buongiorno a tutti ragazzi qui Arduino Schenato da IRforex.com e in questo video voglio parlare di una cosa importante che utilizzo nella mia analisi e nelle mie entrate e sono i pullback i ritracciamenti come sapete se seguite un po quello che faccio da un po di tempo il mio modo di fare trading soprattutto quando si viene a stabilire una tendenza è quello di lavorare esclusivamente sui pullback nel senso che si parla sempre di lavorare in tendenza diciamo che su forti trend non voglio dire che entrare a tutti i prezzi sia ottimale però è più facile riuscire comunque a guadagnare ma in realtà quando c'è un trend il migliore modo per riuscire ad entrare in questo trend è quello di attendere una fase di ossigenazione di pullback per poi entrare e qual è il migliore modo per entrare nei pullback o comunque per capire che il pullback può essere finito perché noi possiamo iniziare a vedere una fase di ossigenazione nel mercato per esempio un trend rialzista come quello che vedete qui al mio fianco dell'oro ma non sapere che magari ovviamente quella è solamente una fase di ritracciamento ma potrebbe anche essere un'ossigenazione più profonda e quindi andare molto più al ribasso quindi qual è il metodo più efficace diciamo per riuscire a capire che quel mercato può continuare a riprendere la sua corsa io credo che il modo più efficace e anche più semplice ma in realtà parliamo di efficacia per capire se quel trend sta continuando è quello di trovare l'informazione che ci dice appunto che questo questo trend non è finito e voglia ripartire quindi questa informazione la troviamo nel momento in cui abbiamo una ripartenza della tendenza facilmente quindi entreremo in posizione solamente quando quella tendenza è ripresa si è ripresa come si fa a vedere questo da un punto di vista operativo beh allora prendiamo ovviamente un trend in questo caso che ci sia chiaramente perché se c'è un mercato che ha solo barre rialziste poi fa un barre ribassiste non è un mercato in tendenza a quel punto non stiamo di fronte a un trend ma stiamo di fronte a un'altra cosa io sto parlando di un trend che c'è quindi partiamo proprio dall'inizio se voi andate a prendere la prima parte di questo mercato che vedete prenderei questa parte qui quindi partirei da qui dove lui inizia una fase di tendenza ecco che la prima parte dove possiamo notare il primo punto di diciamo che ci conferma una fase di trend che sta per partire al rialzo è il fatto che lui abbia creato questa fase questo pavimento un minimo un massimo e un minimo quindi lui in questo caso è andato a rialzo ha creato un swing high e poi guardate qual è il massimo poi successivo eccolo qui praticamente lui fa questo swing questo swing fa questo mini swing perché vedete che questa è la zona e quando lui rompe questo massimo riparte ok quindi la rottura di questo massimo in questo caso è la conferma che il mercato sta per ripartire quindi se io devo lavorare sui pullback il miglior modo per entrare su quel pullback o è entrare sul breakout di quel livello o attendere il breakout per rientrare su una mini un mini ritracciamento una mini ossigenazione o comunque vedere di fare comunque un'entrata successiva al breakout perché altrimenti diventerebbe un po un po come dire aggressiva come come situazione potrei andare incontro anche degli stop loss quindi la continuazione del ribasso poi ancora guardate qua papà papà qui abbiamo questo massimo lui crea una lateralità quindi la rottura di questo massimo può provocare una continuazione questo non è un vero e proprio pullback che è un ossigenazione è una compressione di volatilità va bene poi c'è un pullback più importante questi sono molto interessanti sono quelli che poi portano ad avere dei movimenti più ampi rispetto a queste basi queste ossigenazioni che portano dei movimenti più repentini ma non troppo che durano non troppo duraturi ecco qua guardate qua ancora massimo quindi si deve formare un massimo ritracciamento minimo poi guardate non viene mai rotto questo massimo si crea un nuovo massimo eccolo qua allora inizialmente ripetiamo inizialmente una volta che fa questo il punto di nuova entry è la rottura di questo cioè la ripresa della tendenza quando lui poi fa il pullback e rientra vedete eccolo qua questo è l'altro punto importante dove ovviamente se rotto può dare spinta e ancora guardate qua fa swing massimo ancora poi ancora swing massimo ancora eccolo qua il punto dove lui può ripartire è l'ultimo massimo del pullback che in questo caso è qui quindi l'informazione operativa noi ce l'abbiamo proprio qui quindi qui abbiamo un pavimento abbiamo delle barre di consolidamento quasi inside delle congestione sulla rottura di questo livello si può pensare di fare l'entrata ovviamente lo stop deve essere posto qui sotto ed ecco qui la continuazione vedete noi andiamo a prendere il modo più efficace cioè quello che ci indica la ripresa della tendenza così è come si tra di pullback eccolo qua andiamo a vedere ancora questa è più una congestione va bene poi rompe un'altra fase di ritracciamento molto chiara e molto intensa e anche abbastanza duratura primo massimo poi abbiamo guardate qua papà papà massimo quindi se rompe qua fino a che siamo qui c'è la ripresa potrebbe essere molto probabile la ripresa ovviamente non tutto è certo no però è molto più probabile eccolo qui l'altro e poi ancora minimo poi quasi sono i massimi perché fanno un nuovo minimo quindi questo è l'altro livello che se rotto può portare a un movimento e poi ancora guardate qua minimo massimo eccolo qua se rompe qua può riportare a un nuovo movimento di trend ed ecco che infatti se noi andiamo a prendere poi eccolo qui il il punto di entry eccolo qua eccolo qua il massimo questo ovviamente deve essere posizionamento del massimo rischio e la ripresa il breakout può riportare un movimento di tendenza molto molto chiaro poi ancora andiamo a vedere ovviamente queste devono essere prese nel momento in cui ci sono dei momento in cui ci sono dei ritracciamenti in un trend quindi andiamo a prenderli un po tutti fino alla fine eccolo qua guardate qua questo è l'altro quindi abbiamo il massimo non ritraccia bam ritraccia perché fa due candele vedete non ne fa solo una qui è una rossa qui fa questa più questa ritracciamento brutto l'altro il massimo qual è quello che fa swing è ancora questo di base in realtà qua fa un inside quindi bene o male già da qua si potrebbe pensare una rottura quindi tra qui e qui la ripresa del trend è molto probabile poi ci crea un consolidamento eccolo qua massimo consolidamento vedete rompe diciamo che questa è una fase di congestione una volta che rompe il massimo che crea swing eccolo qua massimo minimo rottura del massimo crea il movimento la ripresa della tendenza poi ancora andiamo a vedere questo è il ritracciamento che stiamo vivendo vediamo cosa potremmo vedere qui che siamo a mio avviso non è ancora il momento di fare un lungo però potremmo essere quasi su quel momento allora ovviamente qua stiamo guardando un grafico guardate qua settimanale allora guardate primo massimo importante questo poi abbiamo il minimo poi abbiamo l'altro massimo importante questo perché crea se rompe questo poi abbiamo questo tam eccolo qui questo è l'altro massimo quindi al momento abbiamo questo come massimo che se viene rotto può portare ovviamente a un movimento quindi al momento attuale potremmo riavere ancora un'altra fase di questo tipo potrebbe essere che crea un altro massimo prima di fare il vero breakout di ripresa della tendenza long di questo mercato quindi io sinceramente ovviamente qui si tratta della tecnica di pullback quindi nella price action cercare di capire le fasi di tendenza di un mercato e lavorare su questo in questo caso specifico quindi solamente la conferma diciamo della ripresa del trend al momento ci si avrà solamente con il breakout del massimo qui che siamo abbastanza lontani adesso al momento siamo oltre 1.950 adesso stiamo trattando a 1.860 ma potrebbe anche succedere che qui ci faccia un ulteriore massimo per esempio così continui una fase ancora di pullback più profondo allora qua diventerebbe questa no e poi ancora e poi magari la prima volta che rompe se rompe crea la continuazione di trend vedete che questo era un esempio potremmo prendere qualsiasi grafico con una tendenza con una tendenza ma anche in questo caso questo che è proprio un mercato per esempio che si sta sta finendo probabilmente la sua fase di pullback potrebbe essere ma adesso ripetiamo che la ripresa del trend molto probabilmente sia solo con il breakout di questo livello qui questo qui 1.970 quindi voglio dire al momento bisogna solamente guardare questo è un video appunto molto tecnico molto didattico che parlava appunto dei pullback e è molto importante quando si fa trading cercare di capire in che struttura siamo quindi riuscire ad avere ben chiare quelle che sono le dinamiche di prezzo di volatilità appunto di swing di pullback di forte trend o meno di trading range di trigger e di breakout appunto di massimi e minimi di swing precedenti in dei pullback perché sono proprio le fasi più efficaci per andare a cogliere la fine di un pullback bene con questo è tutto questa è stata una gran lezione a mio avviso riguardanti pullback vi saluto ovviamente vi aspetto nel platino vi auguro una buona una buona settimana di trading un buon trading simple vi chiedo di lasciare un bel like di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo al prossimo video un saluto a tutti